Volevo parlare con te dei giri visite. Eccomi qua, Bobby, inizia pure. Sono tutti tuoi. Toccherà a te condurli d'ora in avanti. Mi hai stordito, ma in effetti non mi hai messo al tappeto. Sto ancora aspettando il diretto, sai, la classica mazzata. Tipo, quando inizi a urlare la tua voce diventa sempre più forte. Papà, sono stato un bimbo cattivo! Oh, papà, oh, papà, papà, sono stato cattivo! E dai, se non giochi anche tu non è divertente!